Vi faccio vedere come scrivere un libro con ChatGPT, metterlo in vendita su Amazon e guadagnare soldi online. Credo che ChatGPT3 più KDP Amazon sia una combo incredibile per chiunque voglia fare soldi online e non ha soldi da investire. Parte completamente da zero. Si possono fare dei soldi che possono anche essere tanti se poi uno si mette con impegno e decide di scalare questo business. Adesso vi faccio vedere praticamente come fare. Ho fatto un video dove vi ho fatto un corso su come scrivere un libro con l'intelligenza artificiale, però su quel corso ho usato già per molti di voi mi avete chiesto ChatGPT, bensì io abbia fatto, non credo che bensì sia giusto, comunque, benché io abbia fatto, non ho più conoscenze dell'italiano, comunque, ho fatto l'introduzione e vi ho spiegato in quel corso, comunque ve lo metto qui nelle schede, è uno dei video che più è piaciuto. Visto qui nel canale, quindi. Lì vi ho fatto un'introduzione con ChatGPT, però adesso vi faccio un video specifico perché me l'avete chiesto in tanti, quindi iscrivetevi al canale, praticamente queste informazioni ve le fanno pagare. Io ve le do qui gratis, quindi iscrivetevi al canale, mettete like, commentate, è l'unica cosa che vi chiedo. Scriveremo un libro con ChatGPT3. Come si scrive un libro, perché ChatGPT3 ovviamente non scrive, non ti scrive direttamente 5.000 parole, 10.000 parole. Adesso vi faccio vedere come fare, scaricheremo un template direttamente da Amazon, quindi vuole essere proprio un corso pratico, anche questo, su come scrivere un libro su ChatGPT per Amazon, per poi venderlo, perché il business, diciamo, a costo zero, se voi partite da zero, volete fare i primi soldi online, ecco che cosa dovete fare. Secondo me questo è uno dei metodi migliori. Andate su Google, scrivete Amazon KDP, Kindle Publishing, andate sul sito kdp.amazon.com e vi registrate. Allora, vi faccio vedere, prima di partire, quindi vi dovete registrare ad Amazon KDP, dovete praticamente, vi faccio vedere, il libro che ho scritto quando ho fatto quel corso, vediamo questo mese quanto ha fatto, è un libricino, costa 2 euro la copia fisica, 3 euro, no, 2 euro è il guadagno dalla copia fisica, 1 euro è qualcosa, il guadagno dal Kindle che costa 2 euro, non mi ricordo, quindi comunque sì, si guadagna 1 euro e 75 dal Kindle, è tipo 2 euro e 25 dalla copia fisica, quindi sono pochi, pochi guadagni, però noi possiamo creare più libri, ok, quindi avere più guadagni, io ne ho fatto solo uno col Kindle Publishing, scusate, con l'intelligenza artificiale in quel corso, e ora ne facciamo un altro, però vi faccio vedere i guadagni, perché di che cosa stiamo parlando? vediamo questo mese, anzi gli ultimi 30 giorni o il mese corrente, vediamo, mese corrente, libri che hanno registrato più vendite, addirittura il primo di questo mese, gli altri li ho oscurati, 6 ordini elaborati, 12 euro e 55 guadagnati senza fare niente, perché poi il bello è che Amazon, che vi vende, vi fa il marketing, ok, voi li caricate e il gioco è fatto, andatevi a vedere quel corso, dove vi faccio vedere poi proprio tutta la pubblicazione, qui vediamo solamente come adesso, concretamente, praticamente, come scrivere un libro con chat GPT e poi caricarlo praticamente su Amazon, vi faccio vedere concretamente, scriviamo, copiamo, abbiamo il template, adesso vi faccio vedere tutto, quindi prima cosa vi registrate ad Amazon KDP, kdp.amazon.com dopodiché andate su Google e scrivete template Kindle, premete invio e vedete vi arriva proprio il primo risultato, è Amazon Paperback and Undercover, dopodiché andate qui e vi downloadate il template bianco, ok, vi da tutte le lingue, tutti i formati, adesso vi faccio vedere, ecco qua, vi scarica una cartella con dentro tutti zippati sempre i formati, voi scaricate italiano e qui ce li avete tutti, tutti, allora io inizierei con un libricino, visto che comunque dobbiamo riempire, comunque pubblicare un libro con chat GPT, iniziamo facile, facciamo un libro piccolo, quindi creiamo un, scegliamo un'impaginazione diciamo piccolo, un libricino piccolo, 5x8, ok, e lo apriamo, praticamente noi andremo ad incollare il testo qui, e qui facciamo passo passo il libro, iscriviti al canale perché queste cose non te le fa vedere nessuno, quindi torniamo sul nostro chat GPT, allora scriviamo un libro su come, visto che quel libro perché ha venduto? Era un libro sul, su come guadagnare con RBB e Booking, vi ricordate il periodo che uscivano tanti corsi sugli affitti brevi? Abbiamo cavalcato quel trend, qual è il trend del momento? Come guadagnare con chat GPT 3, potremmo scrivere un libro del genere, ovviamente non gli diciamo scrivi un libro su chat GPT 3, ma gli chiediamo prima l'indice, ok, e poi gli facciamo sviluppare tutti i capitoli, e piano piano copiamo e incolliamo nel nostro template, pazzesco, quindi scrivi un indice per un libro su come guadagnare online con chat GPT 3, ok? Ti dà già il titolo, capitoli 1, noi poi ci andremo ad incollare, copiare e incollare, faremo il libro piano piano, così, insieme, nel senso che nel momento in cui lui ci dà tutto l'indice, andiamo a copiare il titolo, poi mettiamo l'indice, adesso vi faccio vedere, ok, ci sono dieci capitoli, quindi prendiamo il titolo e glielo mettiamo nella prima di copertina, cioè nella prima pagina, qui cancelliamo questa scritta e incolliamo il titolo. Chat GPT 3, come guadagnare online con l'intelligenza artificiale, lo centriamo, lo boldiamo, ovviamente inventiamo un autore, lo chiamiamo dominio artificiale, quello era dominio immobiliare, dominio, dominio artificiale, dominio artificiale può essere proprio una collana di libri, mettiamo in corsivo, una collana di libri su, cioè può essere un, ingrandiamo intanto il font, può essere diciamo il nome di un business che insegna alle persone come guadagnare con l'intelligenza artificiale, ci può essere un libro, ci possono essere corsi, ovviamente io vi consiglio di unire tutti i metodi di guadagno, il cash cow channel che lo aprite su un argomento e poi fate i video e poi create i libri, potete fare tutto con l'intelligenza artificiale, andatevi a guardare perché vi ho spiegato tutte queste cose gratuitamente, c'è una playlist che si chiama Chat GPT 3, come guadagnare, ok? Guardatevela, iscrivetevi al canale perché è tanta roba. Ok, dominio, facciamo dominio AI, mi piace di più, dominio AI è l'autore, ok? Andiamo quindi poi nella nuova pagina e scriviamo l'indice, indice e indovinate un po', copiamo tutto questo e copiamone uno alla volta. e lo mettiamo praticamente, lo sistemiamo di lato, togliamo il grassetto, ok, facciamo uno e via via scriviamo tutti gli altri e abbiamo fatto il nostro indice, 11 lo cancelliamo, ok? e abbiamo il nostro bellissimo indice, andiamo avanti e scriviamo il primo capitolo, giusto? li mettiamo il titolo, capitolo 1, tac, introduzione al chat GPT 3, mettiamo un bel font tutto uguale che sia, che ne so, Arial, non so, mi piace Arial, capitolo 1, boldiamo tutto e praticamente lo centriamo, ora, si, indice qui, fai così, lo metti qui, capitolo 1, introduzione al chat GPT 3 e all'intelligenza artificiale, andiamo su chat GPT 3, signori, scrivivi il primo capitolo, e lui ce lo scrive e lo facciamo piano piano per tutti i capitoli, ogni capitolo prendiamo, copiamo e incolliamo. Una volta che abbiamo il file completo, è fatto, a sto punto questo lo faccio, lo continuo a fare, una volta che il file è completo lo andiamo a caricare su Amazon, fate la copertina, la potete fare con Canva, con dei tool, per tutti i dettagli poi tecnici su come caricare il libro su Amazon, andatevi a vedere il mio corso proprio su come creare, come creare, come si chiama, come creare bestseller con Amazon, come creare bestseller Amazon con chat GPT 3, è un corso completo, vi faccio vedere come caricare il libro e quant'altro, ok? Così si scrive un libro con chat GPT 3, guardate che bel primo capitolo che abbiamo fatto, secondo me adesso io questo lo completo, e così vi faccio vedere poi anche le vendite, dopodiché ovviamente chiediamo a chat GPT 3, scrivi la descrizione di questo video, quando andiamo a caricare su Amazon, mettiamo la descrizione, guardate che bel capitolo che ha scritto, mettiamo la descrizione, ok? Scrivi la descrizione del libro, scrivimi le keywords, e facciamo tutto grazie a chat GPT 3. Vi consiglio quindi, vedete, di copiare blocchi, non blocchi interi, e praticamente abbiamo il nostro libro, ecco così, facciamo anche così, guardate che bel libro, quindi copiamo blocchi per blocchi, piano piano poi sviluppiamo tutti i capitoli, intanto impazzisce, comprensibile, poi facciamo questo, cioè ci vuole un po' di sbatti, ma comunque è un business a costo zero, perché chat GPT 3 è gratuito, Kindle Publishing è gratuito, e questa roba supera i controlli, lo ripeto, non sono copiati da internet, chat GPT 3 non è collegato a internet, non copia le cose da internet, è un'intelligenza artificiale, che cosa vuol dire? È come la nostra intelligenza, noi abbiamo una serie di informazioni nella nostra intelligenza, e ad un input rispondiamo con un output, in base a quello che abbiamo nel nostro cervello, e allo stesso modo chat GPT 3 è stato addestrato, diciamo, è stato bombardato di informazioni, che sono aggiornate al 2021, ok? Non va su internet, quindi poi lo aggiorneranno al 2022, e sarà una bomba, e farà, e da a tutti soluzioni diverse, perché è un'intelligenza. Scrivi il secondo capitolo, e andiamo avanti, vi ho fatto vedere praticamente come creare un libro con chat GPT 3, impacchettarlo e pubblicarlo su Amazon, se volete vedere praticamente poi come fare queste cose, vi rimando al mio video, come creare best seller Amazon, lì c'è la prima parte dove scrivo il libro con Jasper, e quello non vi interessa, ma poi c'è tutta la parte in cui carico il libro proprio su Amazon, guardatevi quello, è tutto gratis, e poi ci sono anche i guadagni, ma il libro vende ogni mese, e sono soldini che arrivano, ok? Io sinceramente andrei avanti, capitolo 2, scusate andiamo al capitolo 2, prendiamo blocco per blocco, e via, c'è la spupazziamo, ovviamente possiamo, qui quanto spazio avevo messo, 2, possiamo ragazzi, ovviamente, ingrandire il font, perché diciamo che su Amazon più pagine ci sono, più uno, diciamo, è indotto a comprare, diciamo, vabbè ci sono tante pagine, è un libro di 200 pagine, vuol dire, però vedete quanto è semplice, è una roba allucinante, quindi, magari aumentate il font, quindi poi andate avanti, scrivi capitolo 3, scrivi capitolo 3, e lui va avanti, così, completate tutto, poi andatevi a vedere l'altro video, per vedere poi, se non lo sapete, come pubblicare su Amazon, e ovviamente potete chiedere a ChatGPT3, scrivi la descrizione di questo libro, scrivi le keywords, così completate tutto, fate la copertina con Canva e altri tool di intelligenza artificiale, pubblicate il libro, Amazon poi ve lo venderà, e questo, diciamo, è il metodo più semplice, secondo me, a costo zero per guadagnare all'anno, ovviamente se scrivete più libri, avete più introiti, ne dovete scrivere tantissimi, ma tanto ve lo fa ChatGPT3, gratis, prima dovevi pagare una persona, un ghostwriter, adesso avete ChatGPT3, chi si mette con impegno e ti butti sul computer e butti il sangue, ogni giorno pubblichi un libro al giorno, dopo un mese, hai 30 libri, vedrai che iniziano ai guadagni ad essere interessanti, poi puoi continuare a scalare, è un business, apri partita IVA e ti metti seriamente a lavorare online. Iscrivetevi a questo canale, contenuto bomba, commentate, aiutatemi a crescere, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video, mentre ChatGPT3 ancora scrive, pazzesco, iscrivetevi ragazzi, contenuto bomba anche oggi, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!